Sviluppo e consolidamento del polo universitario Ionico, il Comitato per la Qualità della Vita rilancia il modello universitario Taranto. Cosa chiedete? Chiediamo che per il prossimo anno accademico, il senato accademico dell'Università di Bari, domani, dei liberi, non solo il consolidamento e la continuazione dei corsi di laurea già esistenti, ma cominci a ragionare nel senso di fare in modo che accanto ai primi livelli, mi riferisco a scienze, mi riferisco a beniculturali, ci sia anche la laurea specialistica e in ogni caso che ritorni a Taranto scienze della malicultura perché è uno dei corsi di laurea che risponde alle vocazioni del territorio. Per gli aspiranti universitari intanto il 16 iniziano le prove simulate. Iniziano queste prove simulate qui al Pacinotti con inizio alle ore 9 che riguardano le professioni sanitarie ma anche altre lauree per le quali è richiesto il numero programmato, un'iniziativa del Comitato per la Qualità della Vita però unitamente al Comune, alla Provincia, al Consorzio Universitario Ionico, iniziativa gratuita per gli studenti con la possibilità di un confronto con i docenti della scuola secondaria che correggeranno le prove.